ciao a tutti oggi prepareremo il blondi al cacao il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono farina di tipo doppio zero cacao amaro zucchero burro uova lievito per dolci vanigliato vanillina pasta d'arancia crema nut cao e sale andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro ed azionare il bimbi per tre minuti 60 gradi velocità 2 aggiungere lo zucchero ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 2 aggiungere le uova ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 4 aggiungere il cacao la farina vanillina il lievito il sale e la pasta d'arancia ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 4 con l'aiuto di un cucchiaino mettere la crema nut cao sull'impasto cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 20 25 minuti il blondi è cotto lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dalla teglia tagliare a cubetti spolverizzare con zucchero a bello e servire blondi al cacao grazie e alla prossima ricetta mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace